Un'antica e suggestiva manifestazione religiosa proposta ogni anno con amore e devozione verso Santa Maria di Portosalvo. A Maratea fervono i preparativi per i festeggiamenti del 30 giugno, ultima domenica di giugno, nella quale la comunità accompagna in processione la Madonna di Portosalvo per mare fino all'isola di Santo Ianni attraverso il mare limpido che ne riceve la sua benedizione. Dunque una giornata speciale che rimarca l'importante legame della comunità marateota con il mare. La processione viene da molto lontano quindi la gente è molto 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 motivata e frequenta sempre molto ogni anno di più. Quest'anno sicuramente di più perché avremo molte più barche che porteranno la gente a mare, resteremo meno gente scontenta a terra perché ogni legame con il mare è la parte più importante, la Madonna è la protettrice di tutti coloro che vanno per mare, che navigano, quindi la protettrice dei pescatori e di tutti i frequentatori del mare. La sinergia che si è creata con le imprese di pesca del territorio di Maratea e il nuovo Gal Pesca è importante perché crea una identità nuova e la valorizzazione di questa festa per noi è fondamentale. L'abbiamo messa al centro di tutte le nostre attività, della nostra strategia perché può comunicare sensazioni nuove a chi ci guarda e a chi in qualche modo si approccia a quella che è la nostra realtà, la nostra vita, quella del mare, quella della pesca e quella dell'azione turistica di valorizzazione del mare di Maratea.